L'almanacco della fede Di Padre Livio Oggi cari amici, il nostro pensiero spirituale vorrei cercare di approfondire Un interrogativo che è fra quelli più importanti che vengono sollevati Da quelli che comunque si chiedono se Dio esista E nel caso che esista si chiedono perché Dio permette il male Quindi qui siamo di fronte a una domanda che l'uomo si è sempre fatto Perché il dolore, perché il male, perché la morte? Perché comunque Dio permette, Dio che è amore E che si è manifestato questo amore in Cristo Perché appunto dopo la redenzione che è avvenuta Quella appunto che la grazia, la redenzione, la grazia dell'amore di Dio Che ci ha ottenuto Cristo in croce Quindi dopo che l'uomo è stato, come dire, gratificato dall'amore di Dio Che lo perdona, che lo guarisce E dal male che ha dei ramici dentro di lui prima di tutto Come mai però il male continua ad abbondare nel mondo E per male intendiamo tutto un complesso di negatività Prima di tutto ovviamente il peccato Di cui oggi abbiamo perso anche significato Perché quando si perde Dio si perde anche il senso del peccato Perché il male c'è la cattiveria che cova nel cuore dell'uomo E lo vediamo Fino a che punti di degradazione può arrivare la natura umana Può arrivare il comportamento delle persone Quindi questo, per male, prima di tutto questo C'è il male morale Il male che viene dai nostri comportamenti E che insidia dall'esterno e dall'interno ogni uomo E se non c'è una forte opposizione Che comunque ha bisogno dell'aiuto di Dio Della grazia di Dio, dell'amore di Dio Diversamente risulteremo perdenti, diciamo Di fronte alla potenza del male E allora noi cichiamo perché comunque dopo la redenzione Il male continua a dominare nel mondo Benché ovviamente le cose rispetto a prima di Cristo siano cambiate Cioè la grazia di Cristo comunque Rige una barriera contro il male Non permette al male di prevalere Ma ci sono dei momenti in cui il male sembra veramente Invincibile come siamo nella situazione del nostro tempo E vorrei qui ragionare non tanto a livello personale Ma proprio a livello globale Noi siamo in una situazione del nostro tempo In cui il male cerca di prevalere E questo è il senso dell'espressione che ha detto la Madonna Nel messaggio del 25 marzo del 2020 Quando ha detto che Satana regna Quindi è d'altra parte E anche diciamo così nella visione teologica della Chiesa Presa dalla Sacra Scrittura E c'è questa prospettiva Cioè che anche dopo la redenzione Il male continua a operare nel mondo E San Paolo lo chiama mistero di iniquità Cioè l'iniquità continua anche dopo a operare nel mondo Fino a quando Cristo nella gloria Quando verrà Dirà basta Dirà basta Basta al male Quindi il potere delle tenebre Con i suoi agenti Perché sono persone Sono soggetti I demoni Le arme dannate Sono soggetti E loro stessi Vivranno nel regno che hanno costruito Ma rimarrà come dice un appendice E esterna ai cieli nuovi La terra nuova Che sarà il regno dell'amore di Dio Però rimane l'interrogativo Cari amici perché Il male è continuo nel mondo insomma Vuole riportare questo interrogativo Nella prospettiva che viviamo noi adesso Cioè Noi viviamo una prospettiva Diciamo Che come si è arriverato la Madonna Questa pretesa dell'uomo Di fare a meno di Dio Questo suo orgoglio Col quale ha rifiutato la fede e la croce Sta portando l'umanità alla perdizione D'altra parte le parole della Madonna Sono diventate una Di una Come dire Fanno anche impressione Se le esaminiamo bene Ha detto nel messaggio Del gennaio di quest'anno Ho detto L'uomo moderno Non vuole Dio E va verso la perdizione Cioè Il male è talmente forte Che L'umanità Va verso la perdizione Però La Madonna ha anche specificato Precedentemente Che l'umanità ha scelto per la morte Quindi Qui Entra Entra dunque Questa espressione La Madonna Ha detto L'umanità ha deciso per la morte Ci dà la chiave Per la soluzione di questo problema Cioè Il male È una potenza È la potenza delle tenebre È proprio il demonio Gli angi dannati E le anime dannate La loro Il loro dominio nel mondo Si estende anche Nei cuori degli uomini Che nascono Con peccato originale Quindi Anche dopo il battesimo Rimane La tendenza al male Ma qual è la differenza Rispetto A prima di Cristo La differenza è questa Che È vero Che Dio permette Al male di agire Quindi a Satana Di agire Fino alla fine del mondo Ma è anche vero Che noi Con la grazia Di Cristo Possiamo combatterlo E possiamo uscirne Vincitori Quindi Quando Noi parliamo del male Come dire Siamo un po' tentati Di accusare Dio Perché lo permette Allora Dio permette il male Ovviamente Come ci ha spiegato Un grande concilio Come quello di Trento Ad agonem Perché Possiamo Nella battaglia Agone La battaglia E uscirne E uscirne I vincitori Quindi La visione Della vita Anche dopo La redenzione Anche dopo Che Cristo Ci ha redenti La visione Della vita È pur sempre Una battaglia Una battaglia Perché Perché Il male Ha possibilità Di agire Il demonio Ha la possibilità Di Come ci ha detto La Madonna Espugnare i cuori Riempiti di odio Il demonio Ha la possibilità Di arrivare Al punto Di distruggere La vita E per il quale Viviamo Quelli sono I suoi oiettivi Che comunque Dio non permetterà Però Tutto questo Cari amici È reso possibile Perché l'uomo Pur avendo La possibilità Di lottare Contro il male Pur avendo La grazia Da opporre Diciamo così La potenza Di seduzione Di Satana Pur avendo Le armi Dalla preghiera E dei sacramenti La luce Dei comandamenti L'amore Di Dio Che lo sostiene Però Non lo fa Non lo fa Quindi Cari amici Quando si parla Giustamente La Madonna Dice Qual di Satana È una falsa forza Cioè Quella dell'impero Delle teneve È una falsa forza Perché Perché È una forza Che per essere Operativa Per raggiungere Gli obiettivi Ha bisogno Della nostra cooperazione Ha bisogno Della nostra Debolezza Ha bisogno Che noi In poche parole Se salta Una bussa Ha bisogno Che noi Non apriamo La porta Perché se Apriamo la porta Entra E diventa Il padrone Della nostra casa Quindi Cari amici C'è Questa Questa Prospettiva Che Questa prospettiva Riguardo Perché il male Perché la sofferenza Perché il peccato Perché la morte Perché questa Permissione divina Questa prospettiva Va vista Comunque Nella luce Della fede Cioè Con la redenzione Dio non ha Rinchiuso Satana Nell'inferno Quello lo farà Alla fine dei tempi L'ha lasciato libero Perché noi Venissimo provati Come loro E provato Col fuoco Per diventare Più purificato E quindi Perché La salvezza Sia non soltanto Grazia di Dio Ma anche Nostro merito E perché Dimostriamo a Dio Attraverso la prova Di amarlo Di essere fedeli Di essere perseveranti Di discernere Gli inganni Eccetera Insomma Quindi Non ha tolto Il disturbo Di Satana Dio Ma ci ha dato I mezzi Per combatterlo Per cui Anche in questo momento Cari amici Che sembra che Il male dilaghi L'odio di laghi La potenza Diciamo così Dell'orgoglio Della prepotenza È tale Per cui Nessuno può opporsi In realtà Non è così In realtà Madonna ci ha detto Che noi Con la preghiera Con il digiuno Con i sacrifici Possiamo opporsi al male Possiamo opporsi al male Perché poi Alla fine Di fronte Alla potenza di Dio Che interviene Di fronte alla grazia Di Dio Che interviene Di fronte all'amore Di Dio Che copre Nei nostri cuori Il male manifesta La sua debolezza Per cui la Madonna Dice È una falsa forza Diventa una forza Invincibile Se noi Non siamo armati Dalle armi della luce Se noi Le affrontiamo Disarmati Se noi Non facciamo discernimento Sua capacità Di seduzione Ma invece Noi Lo sperimentiamo Personalmente Prima di tutto Noi Attraverso I mezzi Che Dio ci ha dato Che sono La preghiera La grazia Con cui coltiviamo Le virtù Dell'umiltà Della fortezza Della discernimento Noi Vediamo Che Riusciamo Vincitore del male Quante persone Sono vincitrici Del male Dopo Un combattimento Spirituale A volte Molto duro Alcuno Sono Risultano Vincitrici In un modo straordinario Sono i santi Molte altre Risultano Vincitrici Sostanzialmente Ma non del tutto E per quello che Devono purificarsi In purgatorio Poi ci sono quelli Che si arrendono Al male Si arrendono Al male Non combattono Alzano le mani E si arrendono Al male Si consegnano Al male E poi Alla fine Divente una cosa Solo col male Come dice la Madonna Alla fine poi dannati Divente una cosa Solo con l'inferno Allora Come vedete La permissione divina Del male È certamente Un grande mistero Però Come ci dice Il Catechismo Della Chiesa Cattolica Sulla scia di San Paolo Il fine ultimo Di Dio Per cui permette Il male È la nostra Glorificazione Cioè Non è la nostra Perdizione È la nostra Glorificazione Però passa Attraverso una prova Cioè la prova Del combattimento Spirituale Nel quale tu Dici sia Dio E non il demonio Questa è la prova Delle prove Ed è questa anche la prova Che avremo tutti Nel tempo dei segreti Quando di fronte Alla potenza Del male Che si manifesta Attraverso gli uomini E che aderiscono Adesso Perché gli eventi Dei segreti Sono eventi Provocati dagli uomini Eccetto il terzo Che c'erano sulla montagna Di fronte a questa A questa potenza Del male Che distrugge il mondo E noi abbiamo La possibilità Di resistere E di seguire La Madonna Quindi in pratica Sarà una nostra Libera scelta Fra la Madonna Cioè fa Cristo Fa suo figlio E Satana E certo Cari amici Non possiamo che Piangere lacrime di sangue Come ha detto La Madonna Io piango Lacrime di sangue Per ogni mio figlio Che si perde Però Non dobbiamo Prendercela con Dio Perché permette il male Perché alla fine Se noi Se noi entrassimo Nella logica divina Cioè guardate Che io vi ho dato La grazia Per vincere il male Vi do il mio amore Per vincere il male Vi chiedo Di pregare Di convertirvi Per essere vittoriosi In questo tempo Di grande calamità C'è la possibilità Di far questo Certo che c'è E di fatti Quelli che vinceranno Avranno Saranno cittadini Del tempo della pace Cittadini Di un'era nuova Dove il male Il male verrà Come dire Messo In minoranza Non credo che verrà cancellato Del tutto Perché non è possibile Ma Si potrà toccare con mano Il regno di Dio Che domina Nel cuore degli uomini Ecco dunque Cari amici Come dice il catechismo La chiesa cattolica La permissione divina Del male Quindi la razione di Satana E le razioni anche Degli uomini cattivi Che lo seguono Può essere fermata Dalla grazia di Dio Dalla priera Dei sacramenti Dei comandamenti Cioè Dio ci dà la forza Ci dà le armi Per vincere il male Però noi dobbiamo combattere E questo è il punto Della questione Che molti non vogliono combattere E quindi si perdono Il tempo della vita Dunque è un tempo di prova Anche all'inizio Gli angeli furono provati Nei primi istanti Furono elevati in grazia Dice Santo Ammaso Nel secondo istante Dovettero scegliere Se seguire Lucifero O seguire San Michele Arcangelo Che nell'umiltà Dovono seguire la via Della pretesa Di essere Dio Al posto di Dio Con la dell'umiltà Di essere dipendenti da Dio E' stato il momento Dalla prova Anche per gli angeli Così anche per la prima coppia C'è stato il momento Dalla prova Così per noi personalmente C'è la prova della vita Cioè la nostra vita E' una prova Nella quale Dobbiamo dimostrare a Dio Di amarlo E di essere fedeli E di non cedere La seduzione del demonio Questo dunque E' la prospettiva Per la quale Noi Cari Messico San Paolo Gridiamo Gridiamo la vittoria di Cristo In noi Mediante la fede Mediante La vita Di sacrificio Mediante la sequina Della croce Dunque questo Anche il tempo Dei segreti Cari amici Come ha detto Miriana Risponde a questa logica Miriana ha detto Che Dio permette I segreti Perché con essi Vuole cambiare il mondo E quindi da un male Ricavare un grande bene Tocca a noi Metterci per tempo Dalla parte Di quelli che saranno Vittoriosi L'almanacco della fede Di Padre Livio Musica 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 Muzica Musica Grazie a tutti.